La relazione della Consob è una relazione che incentra sul tema della crescita la base per le riflessioni. Il tema della crescita deve essere accompagnato da un equilibrio tra crescita e sostenibilità. Il professor Savona ha messo un accento molto significativo sul tema del risparmio, certamente questo è condivisibile. Un altro tema importante è il tema della creazione di quello che il professor Savona chiama la Capital Market Union, che è la declinazione del completamento dell'Unione bancaria, dell'Unione dei mercati finanziari, che anche il governatore Visco aveva sottolineato come importante per l'Europa. Questa creazione è auspicata da Savona degli European Safe Asset, come la vede? La vedo sicuramente in maniera positiva, quindi avere un titolo privo di rischio, che sia un titolo europeo, risponde all'opportunità di creare condizioni uguali per tutti i Paesi e questo è sicuramente positivo. Si tratterà di vedere come la Commissione valuterà questa possibilità, perché fino ad ora aperture, soprattutto da parte della Germania, rispetto a questo non ci sono state. Ripeto, anche il governatore sottolineava l'importanza della creazione di un'integrazione europea più forte e quindi sicuramente questo va in questa direzione e questo significherebbe ovviamente anche per i titoli italiani e anche avere meno pressioni, meno tensioni. Quindi questo sicuramente sarebbe positivo per l'Italia, ma sarebbe positivo comunque anche per l'Europa. In Italia si sta parlando molto di mini bot come una possibile soluzione per il debito. Dal suo punto di vista possono essere una soluzione? No, non sono assolutamente una soluzione perché o sono moneta e quindi significherebbe stampare moneta, quindi non all'interno delle regole europee, quindi non possibile, o se non sono moneta, come non possono essere, significherebbe avere debito in più. Quindi non è sicuramente una soluzione quella dei mini bot. Sono emesse novità per quanto riguarda le ipotesi di risico bancario di cui si parla ormai da diverso tempo? Se ne parla da molto tempo, non mi sembra che per il momento ci siano significative novità. Una peraltro l'hanno riportata ai giornali riguardo a Carige, quindi la possibilità di nuovo di un ingresso di due fondi, quindi quello potrebbe essere forse l'unica novità. Su MPS invece? Non mi risulta, dovete chiederlo al governo. La procedura di infrazione verso l'Italia, insomma, che forse verrà avviata nei confronti dell'Italia, a luce anche della riunione dell'Eurogruppo, che prospettive vede? Vedo che è stata avviata una procedura, quindi che in assenza di risposte chiare e precise, la procedura verrà avviata e verrà avviata nel mese di luglio, quindi non aspettando la manovra finanziaria di settembre, la manovra economica finanziaria di settembre. Quindi credo che l'Italia, mi auguro che l'Italia risponda con misure concrete entro i termini che la Commissione richiede. D'altra parte la crescita è indispensabile, tutti vogliamo la crescita, ma è altrettanto chiaro che non possiamo prescindere dai vincoli europei e quindi rispetto a un rapporto debito PIL così elevato come quello che abbiamo, delle misure devono essere prese, quindi misure, peraltro ancora nuovamente, come ha sottolineato il Governatore, di rientro nel medio periodo, ma misure devono essere prese, quindi misure economico-finanziarie che siano meno legate a spese correnti, più legate a investimenti e a tagli di costi. C'è un auspicio specifico in questo senso, dottor Samarte, che lei vuole fare al Governo, cioè di questa misura? È il Governo che deve decidere quali sono le misure.